Bene, accedere al menu dell'audio è semplicissimo, ci basta cliccare sul tasto menu, qui all'interno del menu abbiamo in particolare nelle impostazioni relative al video, quindi andiamo su ingranaggi, poi video, clicchiamo, abbiamo come vedete la gran parte delle voci dedicate appunto alla registrazione dell'audio, la prima di queste è chiaramente la possibilità di accendere e spegnere l'audio, funzionalità se vogliamo abbastanza poco utile ma comunque insomma può essere utile in alcuni casi disabilitarlo. Poi abbiamo il volume di registrazione, in questo menu, in questo sottomenu abbiamo poi due modalità di ripresa, appunto attraverso il microfono integrato oppure attraverso una fonte microfono esterna, ok? Per entrambi noi possiamo impostare il volume di registrazione che va da più 10 a meno 10, fare attenzione che si tratta di livello di B, quindi qua impostare a meno 10 significa ridurre il guadagno di ingresso, quindi il livello di ingresso a meno 10 di B, attenuarlo, purtroppo la funzionalità non permette l'azzeramento del volume, quindi un controllo totale da meno infinito a più 0 di B o addirittura a più 10 come in questo caso. Dopodiché abbiamo le stesse impostazioni per l'ingresso microfonico, di cui parleremo fra poco. Per quanto riguarda il discorso del microfono integrato, vi posso solo dire che è importante che sappiate che i microfoni, siccome la camera è registrazione in stereofonia, vedete questi due buchetti che stanno qui sopra sono i microfoni, quindi fate attenzione a non schiacciarli durante le riprese con il microfono integrato, perché potreste chiaramente offuscare l'audio. Per quanto riguarda la registrazione del microfono integrato, possiamo dire semplicemente che nel menu, quando quindi impostiamo questa funzionalità, entrano in gioco queste voci che troviamo qui di seguito, cioè il limitatore del volume. Che cos'è? Sostanzialmente si tratta di un limiter, per chi è minimo appassionato di difonia, limitare il volume significa decidere la soglia oltre la quale non si può andare in termini di registrazione, quindi in termini di livello di ingresso e quindi limitarlo. Se è acceso, quindi la macchina che cosa farà? Sopra i 0 dB non andrà mai e quindi eviterà possibili fonti di distorsione. Immaginate di essere in un concerto live, ecco in quel caso questo parametro deve essere assolutamente attivato, ma io vi consiglio di attivarlo comunque e sempre, perché malgrado voi abbiate settato perfettamente il livello, ci può essere pur sempre qualche rumore di qualsiasi genere che può oltrepassare il livello dei 0 dB e quindi andarvi in saturazione, quindi impostarlo è sicuramente un'ottima scelta. Impostare il livello di limitatore significa però purtroppo anche aiutare la macchina a generare fruscio, perché il limitatore non solo abbassa tutto ciò che supera i 0 dB, ma tende ad alzare anche ciò che è sotto, cioè schiacciando appunto il livello di ingresso. È un campo un po' complesso diciamo da spiegare così velocemente, però il concetto è che è sicuramente un accessorio utile, ma in alcuni casi potrebbe essere controproducente. Io comunque vi consiglio di inserirlo sempre. Poi abbiamo la riduzione del volume, cioè del rumore del vento. Quando ci troviamo all'aperto, anche se noi pensiamo che non ci sia il vento, che comunque ci sia bassa probabilità o bassa quantità di vento, io vi consiglio comunque di attivarlo, magari al minimo, ma attivatelo sempre. Si tratta semplicemente di un filtro che chiude tutto quello, cioè che cerca di bypassare tutto quello che si trova sulle bassissime frequenze, perché il vento che soffia su un microfono genera frequenze bassissime. Alimentazione plug-in, che cosa è questo? Allora nel caso in cui noi colleghiamo alla nostra macchina un microfonino tipo questo, quindi tipo una capsula del genere, c'è la necessità assolutamente di amplificare il segnale, perché questo microfono deve essere appunto preamplificato, altrimenti il segnale che arriverebbe in ingresso sarebbe nullo. Quindi nei casi in cui utilizziamo delle capsule esterne è necessario attivare il plug-in, qui lo chiamano così, plug-in per la capsula esterna, per il microfono esterno. Andiamo a vedere ora la funzionalità forse più importante di questa macchina. Si tratta del collegamento PCM Recorder acceso o spento. Che cosa significa? Noi dobbiamo attivare questa funzionalità laddove ci troviamo ad inserire un segnale di linea alla macchina. Noi abbiamo appunto l'ingresso qui, qui ci possiamo collegare come abbiamo detto o un microfono e andremo attivare l'alimentazione plug-in, oppure ci andiamo a collegare una linea, quindi un ingresso linea. Poi dall'altra parte del cavo ci può essere o un mixer che manda del segnale oppure ci può essere un PCM Recorder come questo. In entrambi i casi il concetto importante è che tutto quello che entra attraverso una linea deve essere assolutamente gestito e controllato da questa voce di menu. Nel momento infatti in cui noi decidiamo che questo controller deve essere attivato, la macchina si mette in una modalità di disattivare completamente tutti i filtri di preamplificazione interni che invece normalmente lavorano quando si utilizzano i microfoni, sia questo che il microfono di alimentazione normale, cioè il microfono che viene collegato qui alla camera. È fondamentale attivarlo perché un segnale che arriva da un accessorio del genere o da un mixer è già preamplificato, quindi la macchina dice se il segnale è già preamplificato io non devo amplificare ulteriormente e quindi bypassando questo segnale di ingresso, cioè la preamplificazione scusate, bypassandola praticamente eliminiamo tutto quel fastidiosissimo fruscio di cui ho parlato anche nell'articolo che vi lascio qui a fianco all'interno del nostro blog, che purtroppo la macchina genera in caso appunto di disattivazione di questa voce di menu. È chiaro che questo deve essere attivato solo quando attacchiamo l'ingresso linea. Per farvi vedere che cosa succede, nel volume di registrazione noi abbiamo come dicevo prima la possibilità di gestire il volume del microfono integrato, cioè questo qui sopra, oppure di un microfono collegato. La macchina nel momento in cui inserisco una linea, vedete che disattiva l'ingresso microfono, non è più gestibile in termini di volume. Perché? Perché questa è una linea e in questo caso non può più gestire il volume perché sarà il controllo esterno o il mixer a mandare una quantità adeguata che noi decideremo all'ingresso della macchina e quindi non gestiremo più il volume della macchina stessa. Se da una parte sembra un limite, dall'altra è un grande pregio appunto perché ripeto, bypassiamo completamente i problemi di preamplificazione della macchina che generano un fastidiosissimo fruscio di fondo. Ok? Vi faccio sentire adesso quale qualità ho ottenuto attraverso questo collegamento, quindi collegando questo microfono in questa modalità esco praticamente, qui abbiamo la linea di ingresso e qui abbiamo la linea di uscita. Ok? Io che cosa faccio? Prendo la linea di uscita del microfono, lo collego praticamente allo zoom, esco e entro nella macchina in questa modalità. In questo poi chiaramente accendo il microfono, il microfono da solo chiaramente rileva e da qui gestiamo quanto volume vogliamo ottenere in ingresso, quindi il livello a questo punto lo gestiamo sull'apparecchiatura esterna e l'uscita, io in questo caso l'ho impostata al 100%, cioè prendo tutto il segnale e lo mando all'interno della macchina. In questo modo la macchina quindi, ripeto, riceve un segnale, ha bypassato completamente, come abbiamo visto, il livello di ingresso, cioè lo stato di preamplificazione e adesso il segnale che vedete lì entrare è praticamente il livello che percepisce, che raccoglie questa unità esterna. E vi lascio l'ascolto di quello che è l'audio raccolto in questa maniera. No, non esiste solo l'emotività nel canto, anzi diciamo che è una cosa secondaria, ci vuole soprattutto tecnica. La tecnica è fatta dal diaframma che un po' sono le fondamenta della casa. Immaginatevi il canto come una casa, le fondamenta sono le... Sì, sì, no, no, guarda, adesso non posso perché, guarda, devo proprio scappare, devo fare un provino.